ciao a tutti buon poveriggio come state spero bene intanto io faccio le solite procedure mentre aspetto che si colleghi qualcuno quindi tolgo la notifica stavolta che mi sono ricordata sono un po ripetitiva e almeno nelle fasi iniziali delle mie dirette mi rendo conto di essere un pochino ripetitiva però così è nell'attesa che vi colleghiate devo parlare da sola più di quanto io faccia già normalmente eccoci qua mi sono ribeccata anche di qua ciao lavoretti tante altre cose fai da te ciao benvenuta allora in realtà oggi pomeriggio non ho un argomento anche oggi pomeriggio per questa diretta non ho un argomento particolare di cui parlarvi quindi andremo un pochino a ruota libera però ci tenevo a diciamo a collegarmi a fare la consueta diretta del venerdì perché non vorrei poi c'ho paura c'ho paura se no che poi non siete più affezionati a me mi dimenticate e allora mi dispiacerebbe questo e quindi almeno la consueta diretta del venerdì o del mercoledì dipende ci tengo a farla allora annunziata ciao buon pomeriggio ciao luigina cesaretti buon pomeriggio ciao anna rita serra ciao silvia fragale ciao annalisa garibaldi ciao ai la pesce ciao benvenute a tutte mi fa piacere ciao cinzia longo ciao anna maria grieco ma quante siete allora dicevo che in realtà non ho preparato nessun argomento in particolare vado un po così random anche perché mi sento ancora dentro a quella famosa centrifuga di cui parlo ogni tanto per cui non lo so non riesco più organizzarmi bene come facevo fino a qualche tempo fa e non ho in questo periodo non ho neanche più tempo di leggere e quindi non non ho neanche i soliti consigli di soliti libri da consigliarvi come facevo fino a un paio di mesi fa avevo anche in mente qualcosa da dire ma mi sono dimenticata perché non me lo so insegnato vediamo allora 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 aspettate che vi saluto tutte almeno loredana mambelli buon pomeriggio ciao daniela purtroppo il telefono che mi sta lasciando purtroppo mi si spegne spesso e pazienza mi dispiace una cosa fastidiosa però quando succede anna catalano ciao e ho capito anna rita se mi dici perché devo leggerlo lo leggo perché non l'ho capito allora anna maria quagliero ciao anna belmonte ciao si sermenise ciao ciao bruna bertelli marinelle sculapio maria rosa curci maria nizza edoardo bombardelli che mi dice una cosa dolcissima carino ciao giuliana salotti assunta ripa iani ianida ianida sì mattioli grazie caterina santoro buona giornata anche a te e anna rita serra così e sì ma perché devo spettano e ho capito ma perché lo devo leggere voglio sapere il perché sono curiosa ciao buon pomeriggio allora intanto dico alle tre vincitrici che insomma le tre persone che sono state sorteggiate che hanno vinto la tazza che sono la ida poi la marilena e mv che non mi sono dimenticata di voi e in realtà ero ancora stavo ancora cercando le scatole adatte ovviamente devono essere scatole che riutilizzo adesso le ho trovate quindi settimana prossima vado in posta e le spedisco le scatole per mettere dentro le tazze intendo perché in posta vendono ma quelle là giganti e per delle scatoline così mi sembravano sprecate invece ho trovato delle scatolette più piccole quindi settimana prossima ve le vado a spedire allora analisa garibaldi questo vuol dire che hai mollato il bullet journal no guarda analisa io il bullet ce l'ho qua guarda ce l'ho qua pieno di appunti solo che sono sempre costante me e sono c'è tutte le cose che devo fare le faccio nel senso i miei impegni commissioni così le faccio e meno male che c'è il bullet perché sennò sarei veramente ribaltata coi piedi per aria no diciamo che sono in un periodo un po caotico con i video sto facendo fatica a organizzarmi a organizzarmi bene sono sempre stra indietro e a tal proposito vi preannuncio che il video di lunedì sarà un video breve durerà circa tre minuti più o meno non è uno dei miei soliti video è un video che ha secondo me una certa utilità e vi spero che vi piaccia comunque lo imposterò poi in premiere alle due e mezza quindi solito orario se se volete lunedì pomeriggio alle 14 30 per quei tre minutini del video riusciamo velocemente a salutarci allora allora dov'è che era arrivata ok maria teresanni ciao allora danila ciao purtroppo sto per uscire in auto ma la seguirò rientro la tua live buon proseguimento grazie lo stesso per essere passata a danila anno annarita serra si è offesa va bene niente arrivederci va bene arrivederci lorenza venturini ciao buon pomeriggio eduardo mi dice le ti adoro sei bravissima grazie allora una piccola specifica no perché poi io ci rimango male per queste cose annarita serra mi scrive in chat che devo leggere una cosa io le chiedo il perché 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 sono curioso cioè se io devo leggere una cosa che non so cos'è che che ne so io poteva essere un'offesa poteva essere qualsiasi cosa cioè se permetti se io devo dire una cosa spiegami il perché no che ti offendi e te ne vai comunque vabbè ragazzi il mondo è bello perché vario mi creation 73 ciao ciao cristina grazie grazie mille quindi dicevamo che questo sarà una diretta breve perché non mi sono preparata nessun argomento vi volevo preannunciare però vabbè dai a proposito di libri un libro che ho iniziato a leggere che ho già consigliato qualcuno che mi aveva scritto in un commento è questo qua gli occhi neri di susan poi ve ne parlerò bene bene quando avrò finito di leggerlo adesso sono arrivata a meno di metà questo come al solito è un thriller devo dire che questa autrice giulia vabbè questa qua non la conoscevo non avevo mai niente mai letto niente di lei però devo dire che mi sta piacendo parecchio in sostanza parla di una donna che quando era ragazzina era stata rapita ed era stata messa diciamo in una fossa comune insieme ad altre ragazze che erano state uccise però ancora non si è capito bene il perché il per come perché fa è uno è uno di quei libri che è sviluppato con continui flashback quindi c'è la vita attuale della protagonista e ogni tanto c'è ogni tot e in modo alternato ti racconta di quello che le era successo e quindi va niente poi ve ne parlerò bene bene quando l'ho finito annalisa ma sì non te la prendere no no ma sì ma vabbè ma io ci rimango un po male per queste cose solo perché io sono una persona puntigliosa che sta attenta a tutto no e quindi solo per quello poi vabbè o ragazzi cioè eduardo bombatelli il mondo è bello perché ci sei tu mamma mia grazie eduardo che gentile che sei ciao letizia galano volevo dirti che è un bellissimo nome non so se te l'avevano già detto no e niente quindi vabbè io vi dico sempre fatemi sapere poi nei commenti o anche nelle chat se ci sono video particolari tutorial tecniche particolari particolari che vorreste vedere in modo che io non vi posso promettere di farli tutti i video che mi chiedete anche perché devo mi piace sempre aspettare di avere delle buone idee se non ho delle buone idee un po carine particolari o che i video non li faccio perché sennò mi sembra di fare cose già viste e riviste quindi in generale faccio così e il motivo per rispondere ancora alla domanda di prima nonostante io abbia il bullet journal sono un po in una centrifuga perché non non lo so delle volte ai video ai tutorial che faccio ci devo pensare tanto ma tanto 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 perché se non mi vengono così idee che mi che mi non lo so che che mi convincono non ho neanche l'ispirazione per mettermi a registrare quindi a volte si accumulano ritardi su ritardi vabbè allora ciao che ti ma che piacere che bello che ti sei collegata mi fa piacere allora dovete sapere che la catty che mi commenta praticamente sotto ogni video cioè mi dà veramente degli spunti geniali aspetta stai lì catty che ti faccio vedere una cosa eh aspetta stateli tutti eh sputtate eccomi guarda ho preso subito la ho colto la palla al balzo ecco questo è il gomitolo è un piccolo gomitolo che ho iniziato a fare con una di quelle famose magliette di cui ti parlavo ieri cioè di quello e di quegli esperimenti che mi sono venuti male dovete sapere non so se l'avete già visto il video che ho pubblicato ieri che è quello della decorazione delle magliette e allora la catty mi ha commentato e le ho risposto si guarda però di tutti gli esperimenti che ho fatto 4 4 su 4 magliette gli esperimenti sono falliti no e allora lei mi ha suggerito di fare la fettuccia io ero già disperata perché avevo sprecato quelle quattro magliette che sono venute veramente una schifezza perché infatti poi quel tipo di tecnica non l'ho neanche messa nel video e lei mi ha detto va bene ma perché non ci fai la fettuccia con le magliette te la chi va che bella ho fatto solo un piccolo gomitolo eh perché me ne serviva poco sto preparando questo è per uno dei prossimi video vediamo ah mi dice grande no grande anche tu devo provare anche anche quell'altra tecnica lì che mi hai suggerito quindi fammi capire tu mi hai detto che tu con la stoffa ci fondi sopra i pastelli a cera ovviamente usando la carta forno se non ricordo male quindi ci metti una cosa in mezzo eh sopra ci metti i pastelli a cera li fondi con i pastelli a cera e questi non non se ne saltano via con con i lavaggi ciao lì ciao simulatori antonella sei in ritardo no in realtà non stiamo parlando di niente di particolare cioè nel senso che ho fatto questa diretta come dicevo già prima senza avere un argomento particolare e quindi così è un po è un po random non ho più tempo per leggere quindi non non vi posso dare i miei soliti consigli pensate che tra le altre cose ho lì questo libro qua che ho ripreso l'altro ieri in biblioteca no manuale pratico di aromaterapia perché è da un po che volevo farvi un video sull'aromaterapia e sugli oli essenziali così perché è un argomento che mi appassiona tantissimo no ma guardate come l'hanno rovinato questo libro qua no veramente mi è venuto il magone quando l'ho visto hanno rovinato tutto va beh e dicevo che volevo parlarvi anche degli oli essenziali così non so se è un argomento che vi può interessare a me interessa parecchio perché mi piace poi ho preso anche il diffusore quello lì per gli oli essenziali e mi piace avere quel bel profumino che non è neanche tossico perché io in casa ormai da anni non uso più a parte il com'è che si chiama quegli affarini lì con le tavolette per le zanzare quelli là non li uso non li ho mai usati praticamente poi non uso neanche i deodoranti per ambiente quelle cose lì che secondo me sono troppo tossiche a parte che mi fanno venire la nausa e sono troppo tossiche invece prendendo il diffusore con gli oli essenziali gli oli essenziali sono naturali e hanno anche un sacco di proprietà quindi a seconda del tipo di oli essenziale che usi puoi attenere diversi effetti tipo se usi la lavanda la lavanda va benissimo alla sera perché è rilassante quindi va benissimo anche prima di andare a dormire mentre sbagliatissimo usare sarebbe sbagliatissimo alla sera usare la menta perché è un tonico quindi vi vi rinvigorisce non so come dire fa un po l'effetto della caffeina in effetti l'altra sera io ho fatto una cavolata perché ho mangiato un involtino primavera e ho messo ho mangiato anche un paio di foglioline di menta crude praticamente non ho dormito tutta notte non so me fa quello effetto li ho delle difficoltà a dormire se mangio cose insomma un po eccitanti diciamo così allora che ti si li temperi l'incastone nello stencil e li fondi protetti da carta forno io ho testato che lavando a basse temperature non si rovinano ma che tipo di stencil usi che ti perché immagino che si usi quelli lì di plastica non è non si corre il rischio che si fondono antonella con le magliette ho fatto la fettuccia e fatto un porta lavoro all'uncinetto bello io ora fettuccia in realtà non ho mai provato a lavorarla all'uncinetto questo tipo di fettuccia qua perché non ho ancora visto lavori in realtà che mi piacciono cioè ho visto tanti lavori anche su pinterest e fatti con questa con questa fettuccia qua no vendono addirittura già i gomitoli anche già fatti anche dai cinesi li ho visti spesso solo che quei lavori fatti con quel tipo di cioè con con l'uncinetto che poi è grosso con questa fettuccia grossa con questi punti così grossi non lo so non mi convincono a mio gusto cioè ci sono lavori bellissimi però per il mio gusto personale sono un po troppo cioè me li vedo un po troppo pesanti non so come come rendervi l'idea ok letizia riguardo al discorso di prima quando si crea qualcosa lo si fa bene oppure non lo si fa per niente le creazioni portano tempo sì allora ti dico che uno poi le cose le fa anche le secondo le sue capacità e le sue possibilità poi io sono d'accordo con te cioè quando si fa qualcosa bisogna sempre cercare di farlo per il meglio io sono una persona abbastanza perfezionista però nel corso degli anni ho imparato anche a fare pace con me stessa nel senso che se poi capita la piccola imprecisione la piccola svista ho imparato a non prendermela più anche perché insomma siamo tutti esseri umani che sbagliano e il piccolo difettuccio diventa la prova che quel lavoro artigianale è ovvio che deve essere un piccolo cioè soprattutto se magari una cosa che tu fai per vendere e l'errore non deve essere un errore grossolano un errore molto evidente deve essere una cosa un dettaglio no se poi in generale la cosa è fatta bene va bene lo stesso cioè non so se mi sono spiegata spero di sì ciao federica nel mondo del giardinaggio analisa come oli essenziali uso solo il titri ideale anche per tenere lontane le zanzare si ideale per tenere lontane le zanzare allora io il titri per esempio lo uso sia da mettere nel bidone della spazzatura quello che tengo in casa praticamente ho sempre sul sul fondo del bidone io tengo sempre uno scottex con sopra un po di bicarbonato e poi ogni volta che cambio il sacco ci metto dentro qualche goccia di titri e poi lo uso anche quando lavo il pavimento perché adesso da già da un annetto più o meno ho fatto il sapone di marsiglia faccio il sapone di marsiglia liquido quindi dalla saponetta ottengo il sapone di marsiglia liquido e uso quello con delle gocce di titri per lavare il pavimento rimane anche un bel profumino allora antonella ti metto una foto sul gruppo sì 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 brava mettila ciao angela peretti e per elli scusate allora mv ciao letizia buon pomeriggio mi piace l'idea degli oli essenziali bene bene sono contenta tra le altre cose dicevo proprio prima che rivolgendomi a te e alle altre due vincitrici della tazza che non mi sono dimenticata di voi stavo solo cercando le scatole giuste per poter poi insomma della dimensione giusta per andare in posta poi a spedirle quindi se ti adesso li ho trovate tutte tre settimana prossima vado in posta e ve le spedisco allora ciao lavoretti alla prossima buon pomeriggio buon weekend l'errore è perfezione secondo me sì esatto maria rosa cur maria rosaria ottimo e nemico del buono è vero anche questo che ti io ho schermato col nastro di carta passando il ferro il meno possibile dalle prove che ho fatto non ho avuto problemi ora come ti dicevo vorrei fare una bella maglietta e dai fammi sapere poi come come ti viene io tra le altre cose o qualche shopper perché avevo comprato una confezione di shopper l'anno scorso in uno dei prossimi video volevo non lo so volevo fare quattro cinque tecniche diverse o tre vediamo non lo so per decorare le shopper ciao chat nur buon pomeriggio di che si parla ma di niente argomenti a caso il tema di oggi è argomenti a caso e quindi basta direi che siamo già a 18 minuti di come si dice di diretta e siccome io ho esaurito gli argomenti come sapete se non me li preparo poi dopo un po così me ne vado a male allora bene dai buona sapersi che quello degli oli essenziali è un argomento che vi interessa vediamo che altri libri oli eh no niente sono quelli là quindi prossimamente farò probabilmente un video sugli oli essenziali che è un argomento quello lì degli oli essenziali delle cose così naturali che inizialmente avevo pensato di dedicare al canale al mio altro canale vivi con letizia naturalmente il punto è che adesso veramente facendo video con 4 5 6 tecniche ogni volta quindi video un po lunghetti di 8 9 minuti che mi richiedono parecchio tempo per la preparazione non ho tempo di dedicarmi all'altro canale quindi pensavo di far confluire anche questo tipo di argomenti su su vivi con letizia fatemi sapere cosa ne pensate io penso che sia una cosa interessante perché comunque si tratta sempre o di trucchetti per casa o di cose utili per casa che sono un po a tema anche su vivi con letizia allora 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 ok io ho l'olio essenziale al limone che viene usato anche come integratore alimentare a ok ecco fate attenzione quando se e quando prendete gli oli essenziali attenzione che non sono tutti diciamo così commestibili cioè dovete essere sicure se li volete usare anche per non so come aromatizzanti aromatizzanti si dice come va bene come aromi per gli alimenti attenzione che devono essere ci deve essere scritto che devono essere ad uso alimentare se non siete sicure non ingeriteli non usateli per fare cose da mangiare mi raccomando letizia posso chiederti di dove sei guarda letizia io abito vicino a milano sono origini un po varie ma abito nel senso che vabbè sono nata a milano mia mamma di milano una mia nonna era di lodi e cioè è di lodi perché ancora viva la mia nonna mitica e invece mio nonno il papà di mio padre era di taranto mentre la mamma di mio padre toscana mio padre toscano insomma sono un po così misto misto fritto misto italia ok che ti che ti mi dice bella l'idea delle shopper io ne ho alcune con marchio da un lato ma con due ne faccio una bianca bene io ho intenzione di fare qualche tutorial su non so per esempio riutilizzare dei vestiti per fare delle borse per esempio mi sembrava che per l'estate poteva essere una cosa un tipo di argomento interessante antonella lascia tutto il buon pomeriggio ciao ciao buon pomeriggio antonella ciao denis merico mv ma il detersivo fai da te con il sapone di marsiglia per lavare il pavimento non fa troppa schiuma allora in realtà no allora io l'avevo fatto l'anno scorso e ne avevo fatto parecchio quindi non ho ancora avuto modo di rifarlo e vabbè questo non c'entra niente era per dire in realtà il sapone di marsiglia sciolto diciamo così al naturale rimane abbastanza vischioso ti direi colloso ma non è il termine esatto perché non è colloso rimane vischioso filante e ti dico che io tutte le volte che riempio il secchio prima metto il sapone di marsiglia e poi ci faccio andare dentro l'acqua proprio per essere aiutata cioè per fare in modo che si scioglie che si scioglie meglio e non fa assolutamente schiuma adesso non mi ricordo se per il sapone di marsiglia l'anno scorso avevo fatto diciamo la video ricetta il video procedimento su vivi con letizia naturalmente non mi ricordo proprio quindi magari potresti provare se cerchi vivi con letizia naturalmente vai nel canale vai sulla ricerca sul canale tanto lì non avevo fatto tanti video se ce lo trovi ecco allora chanur del nardani è uguale ok linda pollara ciao letizia mi piacciono i tuoi tutorial grazie mille linda sei gentile loredana ciao letizia la prossima vado al lavoro complimenti beh buon lavoro allora grazie per esserti collegata buon buon lavoro e buona serata buon weekend letizia ok siamo lontani tu di dove sei che ti quindi aspetto le tue ispirazioni essi essi aspetta maria lolita ciao ciao buon pomeriggio si sermenise ciao cara devo andare buon pomeriggio va bene direi che posso salutarvi anch'io niente ricordatevi allora lunedì pomeriggio alle 14 30 nuovo video in premiere sarà un video breve questa volta è così sono arrivata un po lunga anche a su giro quindi insomma ho deciso di fare questo questo video che spero possa esservi utile e se ci siete venite a chattare con me in premiere insomma lunedì pomeriggio a letizia galano puglia e guarda mio nonno altro detto era di taranto quindi siamo di origini più o meno sono vicino a te liliana annuario buon pomeriggio e niente dai allora io vi saluto vi ringrazio per esservi collegate ringrazio anche le persone che guarderanno poi in un secondo momento questa diretta e mi raccomando continuate a seguirmi se volete aiutarmi vi prego condividete i miei video e se potete attivate la campanella insomma per non perdervene nessuno aiutatemi perché youtube questo mese mi sta facendo un po impazzire quindi ho le visualizzazioni che mi sono crollate a picco dal mese scorso e youtube penso che abbia fatto qualcuna delle sue solite cavolate quindi per favore se vi è possibile condividete i miei video e guardateli io vi ringrazio vi mando un abbraccio forte